Purtroppo è arrivato questo momento che speravo che non arrivasse mai, speravo che non arrivasse mai, purtroppo è arrivato. 25 anni non si dimentica, non si. Sapete quale era il mio giocattolo preferito? Il pallone. Nascere romani e romanisti è un privilegio. Io sarei qua fino a ora, ma io ti ci guardo. Ho pianto sempre, tutti i giorni, da solo, come un matto. Ora è finita veramente. Mi levo la maglia per l'ultima volta. La piego per bene anche se non sono pronta a dire basta e forse non lo sarà mai. Vi amo! Grazie. Grazie.